È passato un anno. 12 mesi che mi sono sembrati interminabili. Tutto dannatamente uguale. Anzi no, qualcosa di diverso c'è. Con Arturo non ha funzionato. Esco da poco da... Ha una relazione importante. Perché diciamocelo, gli opposti si attraggono ma alla fine si lasciano. Poker di donne. Ti ho osservata. Tu conti le carte. Quindi che vuoi fare? Voglio affinarti un lavoro. Stasera lei è solamente Rebecca, mia cugina. E' spaventata a morte. Eh, lo so, faccio questo effetto a volte. Adesso tu mi dici che ieri notte non è successo nulla. Perché tecnicamente è successo stamattina. Io, con gli uomini, ho chiuso. Ragazzi, non vi andava bene quello di prima? Non vi va bene neanche questo? Stavolta andrà tutto bene. Mi hanno offerto un lavoro. Gabriele si trasferisce in Francia. Avremo una relazione a distanza. Come tante altre coppie. Chi era quello? Tommaso, il rider. Devi prima pensare a ciò che tu puoi fare per l'azienda. È successo quello che è successo. È stato anche molto piacevole. Però basta, eh! Che tu segui sempre lo stesso canovaccio. Trovi uno inarrivabile, lo stalkerizzi, fino a farlo cedere. Stanno arrivando i polmoni per me. Vi prebisco di avvertire Gabriele. Avevate ragione. Era troppo presto. Era troppo presto. Andrà tutto alla grande.